Questo video è un gesto d'amore, un gesto d'amore nei confronti della GOG da parte dei musicisti che avrebbero suonato o che hanno suonato nel corso della stagione 2019-2020, interrotta bruscamente. È un gesto d'amore attraverso queste registrazioni e queste dediche che hanno fatto dalle loro case. È un gesto d'amore molto bello nei confronti della musica dal vivo, che in questo periodo soffre tanto. Ed è un gesto d'amore carico di speranza, la speranza che presto ci si possa ritrovare tutti insieme ad ascoltare la loro musica. Desidero dedicare al pubblico della GOG e a tutta la città di Genoa l'area delle variazioni Goldberg di Bach. Quest'anno non mi è stato possibile finire a Genoa, città che amo particolarmente per eseguire la resurrezione di Handel. Ma sono sicuro che ci rivedremo presto. Vi auguro tutto bene possibile e vi mando un saluto della mia casa in Olanda. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti.